Nei prossimi mesi saranno avviati nel Lega di Lavori per la realizzazione di una serie di importanti opere per la transizione ecologica inserite nell'ambito del programma Isole Verdi, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripesa e Resilienza. La Giunta Comunale ha dato il via nei giorni scorsi alle procedure per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori. La Giunta Comunale con diverse delibere ha approvato tutti i progetti del PNRR già ratificati dal Governo Nazionale e che nei prossimi anni cambieranno il volto delle nostre isole. Si tratta ora di passare alla fase della realizzazione con gli affidamenti degli incarichi e dei lavori che dovranno avvenire entro fine anno. Saranno diversi i settori di intervento. Si punterà innanzitutto all'efficientamento idrico al fine di superare e risolvere definitivamente i problemi legati all'approvvigionamento. Sono progetti di rigenerazione energetica, di ammodernamento e di rifacimento di tutta la rete idrica delle nostre isole, di realizzazione dei potabilizzatori e dei dissalatori che ci faranno ridurre e risolveranno in modo definitivo i problemi dell'approvvigionamento idrico nelle nostre isole. Progetti che riguardano l'efficientamento energetico delle nostre scuole e dei palazzi pubblici comunali e progetti ancora che riguardano l'alimentazione elettrica con l'ammodernamento di tutta la rete dell'illuminazione delle nostre isole e l'ulteriore illuminazione di aree attualmente al buio, soprattutto nell'isola di Favignana. Insomma, progetti che cambieranno il volto di Favignana, Levanzo e di Marettimo lo proietteranno nel futuro e noi vigileremo perché ora nella fase esecutiva vengano rispettati i tempi che il PNRR impone. Per questo abbiamo già attrezzato anche gli uffici con nuovi tecnici che sono già al lavoro per la fase esecutiva dei progetti e poi per la definizione delle gare e dell'avvio e della direzione dei lavori.